Ciao, faccio un altro video un po' generico ancora sugli strumenti di generazione immagini automatici diciamo, non mi va di chiamarle intelligenze artificiali nel senso che mi sembra una parola un po' eccessiva rispetto a quello che sono in grado di fare. Disclaimer, che credo che sia necessario, io non faccio un tutorial pensando di essere né pro né contro queste cose, le seguo nel senso che queste cose esistono è pieno di gente su internet che sta insegnando ad usarle, non è mia intenzione farlo, fare dei tutorial su queste cose però voglio approfondire sempre come funzionano certi strumenti perché se gli strumenti ci sono è come la pioggia si può essere pro o contro però la pioggia là fuori c'è e quindi se serve usare l'ombrello non si prende se serve prendere la pioggia la si prende. Io anche per demistificare la gran quantità di fuffa e di pubblicità fondamentalmente che si legge ultimamente sempre su questi strumenti che paiono miracolosi voglio mostrarvi un po' delle cose, degli esperimenti che ho fatto per vedere in che direzione si sta andando quali sono le novità e come controllare i risultati della generazione di immagini che finora nella vulgata sono semplicemente da testo a immagini, mentre invece ci si sta muovendo in altre direzioni, ci sono delle novità e voglio semplicemente mostrarvelo un pochettino proprio perché come al solito se si deve parlare di qualcosa si parli di qualcosa conoscendolo. Altra nota, d'ora in poi bisognerà dare per scontato, sarà meglio diciamo per il benessere di tutti quanti, che qualsiasi immagine che vi capita davanti potrebbe essere stata generata appositamente ci sono degli strumenti online che sono basati sugli stessi metodi con i quali le immagini vengono generate che cercano di intuire se un'immagine è fatta da esseri umani o se è artificiale però non funzionano benissimo, danno un valore di probabilità come in questo caso che dice che è quasi certamente umana beh, è falso perché questa è artificiale, l'ho fatta io. In questa dà 78% artificiale ed è vero perché appunto l'ho fatta io con stable diffusion, con i metodi che vediamo oggi in altri casi dà dei risultati 50 e 50 che sono ridicoli anche di fronte a un'immagine che è palesemente diciamo di tipo illustrativo se ne conoscete di altri, ne verranno fuori, sarà il caso che si impari ad usarli perché appunto ormai bisogna dar per scontato che qualsiasi cosa ci si trovi davanti potrebbe essere finta per ora ci salviamo abbastanza con i video che sono molto riconoscibili ma credo che durerà qualche mese ancora e poi basta, anche lì avremo i video generate automaticamente ci sono diverse novità perché si riesce a controllarle molto di più di prima un banale esempio che ho fatto con uno schizzo di quelli classici da 5-10 minuti l'ho provato a dare in pasto come guida di controllo e effettivamente mi ha generato tutta una quantità di immagini alcune orrende, queste sono selezionate diciamo tra quelle più decenti però il mio schizzo non era stato fatto allo scopo di essere un sistema di controllo per la generazione dell'immagine per cui insomma già poterlo fare con uno schizzo fatto per tutt'altro questo permette di controllarle molto di più rispetto agli input testuali che bisognava usare fino a ieri nel frattempo è uscita la versione nuova di Mid Journey che io non uso nella quale hanno spinto moltissimo dal punto di vista del fotorealismo per cui probabilmente stanno cercando di specializzarsi diciamo nella resa di ritratti perché sono tra le cose che gli riescono meglio insomma ci sono diversi modi anche di controllare l'inquadratura che una volta non c'erano quindi Mid Journey si è spostata in questa direzione direi è uno strumento del quale non apprezzo tanto il fatto che siano molto opachi rispetto alle immagini che hanno raccolto e quindi preferisco non partecipare in nessun modo al suo miglioramento nel frattempo però Adobe è uscita con il suo Firefly intanto la prima cosa che dichiarano è che appunto hanno utilizzato le loro immagini disponibili su Adobe Stock Photos per cui come dicevo anche negli altri miei video il problema del copyright è del tutto risolto nel senso che i primi strumenti si sono comportati appunto malissimo vedremo come andrà per Mid Journey eccetera però è chiaro che sarebbero arrivati sul mercato infatti lo hanno fatto nel giro di poche settimane dei prodotti che hanno del tutto risolto il problema del copyright delle immagini questo sembra uno strumento pensato per grafici e designer e quindi è molto facile da usare a occhio sostituirà o comunque insomma si prenderà una buona parte di quello che era lo spazio delle foto di stock e anche della modifica delle foto di stock perché appunto magari la foto presenta il soggetto in una situazione che noi non vogliamo con un materiale che noi non vogliamo e sarà possibile cambiarlo facilmente è anche uscito un mega archivio quasi un miliardo di oggetti 3D annotati da parte di questi Objeaverse è solo la base dati questa quindi non c'è ancora un modello diciamo basato su questo la cosa interessante è che questo è veramente enorme per cui probabilmente sarà utile anche per creare oggetti 3D in maniera automatica tra l'altro il dataset è esplorabile e ricercabile ci ho trovato due modelli fatti da me che avevo pubblicato su Sketchfab e hanno rispettato effettivamente la licenza nel senso che su Sketchfab la licenza era libera ma con citazione e in effetti qui nell'archivio c'è scritto appunto di chi è e c'è anche ovviamente la descrizione perché è quella importante per loro e quindi c'è il modello e c'è chi lo ha fatto non hanno avvisato assolutamente quelli di Sketchfab e questo non è carino però la licenza è stata rispettata nel mio caso questo era animato ce n'è anche appunto un altro chissà se in che modo queste cose verranno utilizzate da una prossima intelligenza artificiale il 3D è chiaramente il punto di arrivo come dice correttamente in questo tweet non abbiamo a che fare con dei creatori di immagini molto veloci abbiamo a che fare con un motore di rendering 3D molto lento si tratta semplicemente di aspettare che sia abbastanza veloce da poter generare al volo le immagini in un'animazione perché ovviamente lo scopo è chiaramente l'animazione è lì che ci serve generare grandi quantità di immagini una dopo l'altra le singole illustrazioni vengono meglio a un illustratore vediamo già molte di queste animazioni nei video musicali è il classico posto dove si sperimentano delle cose nuove qua c'è Maci e Qciara dietro che ha fatto delle animazioni classiche diciamo poi il tutto è integrato con queste altre animazioni che si riconoscono come fatte da intelligenze artificiali perché hanno un pesante flickering di cose che si spostano che non funzionano benissimo insomma comunque più o meno ci si può aspettare in pratica che saranno un grosso ausilio questi strumenti per migliorare per esempio un rendering 3D di bassa qualità a dargli dei dettagli che creare fin da zero in 3D sarebbe estremamente oneroso e difficile si crea un 3D più semplice e questi metodi finiranno per aggiungere quei dettagli che non ci sono nell'originale da questo punto di vista questi sistemi di controllo sono utili perché appunto ci permettono di ottenere un risultato non spiegandolo a parole con i prompt per una persona che disegna che realizza immagini è un metodo troppo grezzo appunto è impossibile da controllare spiegare voglio un'inquadratura aerea eccetera eccetera le control net che per ora io ho visto in stable diffusion non so se ci sono appunto in mid journey però appunto credo che piano piano i concetti del genere arriveranno dentro a tutti quanti questi generatori di immagini le control net qui sono descritte nella loro parte tecnica su questo github che è possibile scaricare appunto in pratica è uno strumento per guidare il risultato quindi questa per esempio si chiama Kenny e parte da quello che è più o meno uno schizzo è quello che ho usato io per l'immagine appunto della donna parte da uno schizzo si può ottenere le varianti la maggior parte di questi punti di partenza quindi questo schizzo dell'uccellino può essere ottenuto ovviamente anche lui stesso da una foto precedente per cui vedete qui a sinistra c'è la foto dell'uccellino si ottiene la control net diciamo l'immagine di riferimento e da questa se ne genera altri ovviamente niente impedisce di disegnare a mano l'iniziale uccellino in questo caso è fatto con un cane quindi questo è quella che si chiama Kenny poi c'è questa che usa delle linee diritte quindi anche questa può essere estratta come nell'esempio da una foto esistente o disegnata a mano quindi va bene per le architetture queste sono dei bordi più vaghi comunque vedete in questo modo è possibile controllare il risultato questo appunto è per esempio a partire da uno schizzo disegnato a mano e quindi a un artista permette di disegnare quello che si vuole ottenere faccio lo schizzo e ottengo grazie alla descrizione testuale oppure anche all'uso di control net una sopra l'altra quello che voglio quindi questo appunto è uno schizzo che si vede che è molto scarso fatto a mano dipende da quanta pesantezza da quanta forza si dà al proprio disegno lo cerca di seguire perfettamente oppure lo prende solo come una guida generica e poi c'è questa che è interessante perché è basata sulla posa del corpo quindi anche qui è possibile estrarla da una foto esistente e ottenere quindi questa indicazione della posa che è fatta con uno standard che si chiama open pose e poi quindi chiedere di generare un'immagine con la stessa posa e anche questa interessante che è quella di profondità quindi di depth in pratica le cose bianche sono vicine le cose nere sono lontane il grigio è metastarada una depth map in 3d è una cosa abbastanza tipica e permette quindi di generare un po' come per la posa qualcosa di molto controllato qui ci sono appunto degli esempi nei quali si può vedere praticamente all'opera un sistema di colorazione automatico perché se la se la mappa Kenny che gli si dà è un disegno al tratto poi gli si può chiedere varie colorazioni in pratica va a riconoscere a colorare quello che serve come se fosse un colorista automatico si possono mischiare una con l'altra e quindi anche fare più di una cosa non è mia intenzione fare un vero e proprio tutorial perché tanto sono strumenti che cambiano veramente di continuo tra poco tempo saranno perfettamente diversi se volete provare a installare stable diffusion la sua versione più facile è questa di automatic 1111 ci sono le istruzioni qui su come installarlo per quanto riguarda le control net è questo il repository che ho utilizzato io c'è la spiegazione ci sono anche degli esempi si può installare control net sulla web UI di automatic 1111 tramite questa estensione e quindi anche qui trovate degli esempi su come appunto è possibile pilotare i risultati già questi esempi sono abbastanza chiari vediamo un pochettino gli esperimenti che ho fatto io come dicevo non è un vero e proprio tutorial qui con un disegno già pronto a china e devo dire che è piuttosto scarso come colorista i risultati non sono per niente accettabili diciamo probabilmente si perde più tempo a cercare di renderli decenti che non a rifarli da zero però è comunque interessante il fatto che gli si possa fornire qualcosa che non è nato assolutamente per essere una control net è un disegno addirittura questo l'avevo scelto proprio perché aveva questa nebbia che infatti viene interpretata effettivamente come nebbia in alcuni di questi casi qui può essere però come al solito un modo per esplorare diverse idee e poi tenerselo da parte magari come reference da un punto di vista dell'illuminazione dire ok buona idea posso posso fare arrivare la luce in questo modo usare questi contrasti e così via però chiaramente bisogna ovviamente rifare le cose perché il livello è scarso questo è già più interessante ho fatto questo schizzo al volo con le dita sul telefono e l'ho provato a dare in pasto appunto come control net di tipo sketch ottenendone una versione un po' più pulita che ha rispettato i colori e tutto però ovviamente ne ho ottenute molte questa che vi mostro è una di quelle che ho selezionato che non era per niente interessante però ho provato a chiedergli di generare la depth a partire da questa e quindi dallo schizzo iniziale a quello lì in mezzo da quello lì in mezzo a generargli la depth e tramite la depth gli ho chiesto altre generazioni arrivando a dei risultati più interessanti di sicuro è un metodo simpatico per fare brainstorming nel senso che queste sono solo due ma avendone generate decine e decine da tutta una serie di idee di illuminazione di composizione anche anche se originariamente c'è una composizione però poi si gioca da altre parti sul modo di gestire chiaro scuro in altri modi e quindi diciamo che piano piano il punto di partenza si muove in direzioni che possono essere pilotate e possono muoverci le idee un modo di fare brainstorming piuttosto interessante è anche un modo per riuscire a risolvere le schifezze che fa questo per esempio sono tutte immagini generate chiedendo semplicemente un uomo in una certa posa non ne ha imbroccata una sono tutti piuttosto orrendi tranne ce n'era una in cui almeno sembrava una persona rispetto ad altre partendo da questa quindi dall'unica riuscita bene gli ho chiesto di generare la posizione e la depth e con queste due insieme è riuscito a generare altre immagini che almeno hanno una persona decente diciamo in questo caso ho aggiunto come prompt insomma un paesaggio fantasy e un guerriero e come vedete sono apparse le spade apparso il paesaggio fantasy per cui diciamo che in questo modo questo questa guida ha permesso di generare qualcosa di molto più sensato rispetto al primo risultato del tutto pazzoide per esempio una foto e andando estrarre la posa si può notare che questi risultati nei quali ho aggiunto ovviamente nelle descrizioni testuali le varie cose tipo donna fantasy capelli eccetera la posa viene più o meno rispettata e anche aggiungendo come control net un disegno delle mani fatto corrispondente alla fotografia come questo usandolo come Kenny in diversi casi le mani si sono comportate correttamente certo i risultati come vedete non sono finiti però c'è davvero tanta variabilità di ambienti di contrasti di colore di dettagli di scelte che possono essere stimolanti questo ad esempio è un altro esperimento in cui da questa foto ho estratto sia la posa che ho disegnato a mano i bordi delle mani questo in effetti in molti casi come in queste immagini qua sotto ha reso decentemente le mani che altrimenti sarebbero venute male tuttavia per esempio il fatto che questa fosse molto in primo piano e molto diversa dall'altra lo ha tratto spesso in inganno e quindi in diversi casi non è riuscito a capire che questa era una mano per esempio si trova meglio quando le due mani hanno dimensioni simili abbassando di intensità ad esempio qua togliendo del tutto l'uso del disegno delle mani ma lasciando solo la posa si può ottenere qualcos'altro come al solito più lo si lascia libero più il risultato è decente più lo si costringe più bisogna starci attenti con una depth map ad esempio sono riuscito a ottenere in questo caso con image to image invece di text to image a partire da queste immagini un diciamo una specie di città futuribile da questa immagine del tombino ad ottenere quest'altra città e grazie alla depth map sono abbastanza costanti le forme e quindi ho potuto realizzare più facilmente un'animazione in cui non c'è troppo flickering tra un'immagine all'altra perché appunto la depth map garantisce una generazione sempre simile di immagini questa è un'altra control net in alto a sinistra con i landmark della faccia anche in questo caso l'ho disegnata a mano quindi con dei puntini e ho aggiunto anche quest'altra guida sempre di tipo kenny con degli elementi e queste sono dei risultati potete notare che il la posizione è esattamente quella della posa proposta e anche si nota nel colletto e nella collana che le forme sono quelle che ho chiesto questo in caso appunto qui ho messo donna riccia e bionda qui invece la stessa identica control net ma con la richiesta sotto di un uomo di 50 anni vichingo ho aggiunto e quindi all'improvviso sono apparse queste cose di stile medievaleggiante nella riga di sopra invece ho aggiunto anni 70 e ho messo un uomo di 30 anni la control net ci permette di decidere esattamente dove e come vogliamo le cose potete notare di nuovo il colletto che segue il disegno che gli ho fornito e l'eventuale collana tra l'altro si vede che se la cava molto meglio con le fotografie che non con le illustrazioni tra le control net di posa poi ce n'è due standard allora quello a sinistra è open pose che mi sembra più preciso perché ha colori diversi per ogni arto a questi puntini dove finiscono però anche per questo motivo è un po difficile da disegnare a mano invece quest'altro si chiama chi pose ed è molto più semplice da disegnare a mano questo è un altro esperimento che ho fatto ho disegnato a mano quindi in un programma di disegno questi bastoncini con la posizione delle spalle delle anche delle ginocchia e in questo modo tra l'altro aggiungendo anche questo disegno molto semplice questo schizzo di do delle mani e del tondo della cintura sono riuscito a controllare facilmente la posa del personaggio in questo caso non partendo da una foto ma partendo da qualcosa disegnato direttamente da me open pose tra l'altro è uno standard è questo qui appunto che a partire da video immagini è capace di generare sia il landmark della faccia che le posizioni del corpo e un utente ha reso disponibile anche un rig per blender questo che potete cercare appunto come character bones that look like open pose for blender in pratica è un file di blender con un rig che quando messo in posa e renderizzato permette di avere il risultato che poi può essere usato come control net per stable diffusion tra l'altro usa entrambi gli standard può usare anche quest'altro standard di key pose invece di open pose poi appunto eventualmente i landmark qui è tutto spiegato tra l'altro all'interno ha messo un po tutto anche il landmark della faccia quindi diciamo che si può avere un po di tutto compreso per esempio dei posizionamenti per riuscire a fargli disegnare correttamente non solo le pose grazie alla depth per esempio o a kenny appunto i bordini a fargli disegnare correttamente mani e piedi qui per esempio appunto la posa e le mani in depth e quindi il risultato riesce ad essere corretto il file è questo quindi c'è un rig si può muovere mettere in posa e il risultato se renderizzato è appunto open pose si può anche selezionare e deselezionare questo punto è come fosse open pose altrimenti c'è anche la versione sotto forma di key pose che io trovo più facile da capire si intuisce che questo key pose ha gli arti destri sono azzurri entrambi gli arti sinistri sono verdi arancione per il corpo e le spalle sono collegate alla larghezza delle anche e sono collegate alla larghezza della testa quindi alle orecchie dopodiché tra di loro non c'è nessun collegamento mentre invece sono collegati alla posizione diciamo degli occhi davanti agli occhi gli occhi tra di loro hanno questa linea fare un triangolo con la punta del naso questo è facile da disegnare anche a mano creo una nuova immagine da 512 per 512 non serve che siano grosse in un programma di disegno e posso schizzare all'incirca come vorrei il mio personaggio proviamo a fare qualcosa di difficile per vedere se riusciamo a metterlo in difficoltà se questo fosse più o meno il mio personaggio adesso se dovessi realizzarlo con key pose faccio uno screenshot da qui solo per poter avere i colori da pescare e lo incollo lo trasformo da qualche parte riempio di nero il livello in questo caso quello con lo schizzo quindi lo devo invertire crea un nuovo livello e vado a dipingere con le linee strumento linea collego le due spalle e le anche dopo devo collegare con le orecchie gli occhi se fossero qui sarebbero magari facciamolo girato un po di là quindi le due linee che collegano gli occhi il naso facendolo così avrà la testa un po verso il basso se voglio fargli la testa un po verso l'alto magari avrà gli occhi quassù e allora il naso sarà qui e il collegamento sarà questo comunque quindi diciamo facciamo proviamo a far così e ho creato il corpo adesso devo prendere l'arto destro tra l'altro facendo destro sinistra posso decidere appunto se è visto da davanti o di lato faccio anche la gamba destra che quindi magari è così e adesso con l'altro colore quelli sinistri quindi la coscia andrà da qui a qui e vediamo se riuscirà a capirlo e la mano facciamola così dovrebbe corrispondere più o meno quindi ora posso nascondere tutte le cose che non c'entrano ed esportare questa forma magari la sposto anche un po più nel mezzo del disegno su stable diffusion inserisco il prompt poi aggiungo tutte le frasette tipiche obbligatorie diciamo per cercare di ottenere qualcosa di decente da stable diffusion e vado ad aggiungere la control net quindi in questo caso qui devo inserire la mia immagine questa è in key pause quindi abilito la control net pre processore non mi serve perché è già pronta non la sto estraendo da una foto ecco qua key pause ho la possibilità di decidere quanto peso dare io adesso lascio tutto di default quindi peso 1 e che lo governa dall'inizio alla fine e faccio una generazione in questo caso gli ho chiesto due batch da quattro immagini aspetto quei secondi necessari si può vedere che la posa è controllata effettivamente cioè nei risultati che stanno uscendo che sono super generici perché ovviamente non ho aggiunto nient'altro però sta cercando di rispettare questa posa mette il computer e la scrivania come gli pare rispetto a questa posa perché non ha nessuna informazione da questo punto di vista ottenute le varie immagini magari qualcuna potrebbe avere la posa che ci interessa diciamo anche degli altri oggetti sono super scarse perché le ho fatte generare con pochi passi e non mi sono preoccupato dei volti poi comunque notate tra l'altro che con le gambe ha fatto un po' di fatica ha chiaramente dei problemi questo è il caso dove magari bisogna dargli altri metodi anche per aiutarlo si potrebbe partire da una di quelle che ci convince come questa ad esempio e tirare fuori la depth da una come questa tornando qui potrei andare ad aggiungere un altro control model e in questo caso mettere l'immagine che mi aveva convinto però come pre processore metto depth facendo preview annotator result vado a vedere come genererebbe la profondità a partire da questa immagine adesso questa è la depth dell'immagine e potrebbe aiutarlo un po' di più la posso abilitare magari ne abbasso il weight leggermente a 0.8 e facciamo in modo che non lo segua fino alla fine quindi mettiamo 0.8 anche qui abilitando la depth vedete adesso tutte le immagini vengono generate anche con questa quest'altra scrivania davanti perché si trova nella depth map e quindi cominciano a somigliarsi molto di più sta generando in questo caso due batch da quattro immagini come vedete ci mette anche molto poco a generarle ecco qui appunto le otto immagini e sono tutte questa volta molto simili che sia per posa che per elementi disposti in questo caso ho usato depth avrei potuto usare qualcos'altro aiutandolo per esempio con delle linee invece che con depth se prendessi ad esempio una delle immagini posso ripartire utilizzandola magari questa volta dandogli dei dettagli grazie a Kenny quando ho queste linee le salvo e magari potrei approfittarne per cambiare anche la depth map dove non mi piace posso sfocarla un po' ecco un po' di blurring e adesso salvo questa come depth map non avrò più bisogno di questa foto per generarla ma avrò la mia depth map di conseguenza non mi serve più il preprocessor ma sarà direttamente questa e gli ho già abbassato la forza e posso aggiungere un ulteriore control model con queste linee e appunto modello Kenny adesso ha tre control map da seguire e vediamo se ce la fa ho ritoccato un po' il prompt io non sono un espertone di prompt eccetera faccio delle prove comunque diciamo che quello che volevo mostrarvi è che si riesce a controllare il risultato in modo più artistico diciamo tramite le control net che non con le parole poi come vedete i risultati sono comunque scarsi in altre situazioni si possono ottenere dei risultati migliori qui probabilmente l'esempio effettivamente una posa difficile un'illustrazione difficile un altro esempio faccio una scena in blender molto semplice e la uso come depth map tra le proprietà della camera in viewport display e farci mostrare mist adesso che la vediamo la linea qua di mist nel world possiamo andare a definire appunto qual è il punto vicino e il punto lontano mist pass start e la profondità adesso è impostata a 25 che arriva fin laggiù direi che va bene mi serve anche il mist pass quindi lo attivo rifaccio il render e nel mist pass ho a disposizione eccola qua la depth map posso salvare entrambe e posso nell'image to image usare anche la mia immagine come punto di partenza inverto i colori perché devono essere bianchi davanti e neri dietro depth come metodo di controllo e rigenero depth map era un po troppo forte l'ho bloccata ad un certo punto quindi ho messo 0.25 quindi fino ad un quarto la segue e poi da un quarto in poi non la segue più e quindi questo è un esempio nel quale ho indirizzato l'inquadratura all'inizio però dopo non l'ha più seguita e quindi ha deciso di cambiare da un certo punto in poi e può essere che dia dei risultati più interessanti quando è più libera ecco alcune delle immagini generate magari anche appunto cambiando prompt e richiesta da edifici moderni edifici brutalisti medievali cambiando le richieste di luce come vedete si riesce a controllare abbastanza si può appunto regolare la quantità di forza che vogliamo dare a queste indicazioni siamo ancora di fronte a degli strumenti piuttosto rozi insomma però tra poco penso che potremmo cominciare a vedere degli dei sistemi di controllo per immagini così anche da altre parti come per esempio appunto su mid journey stanno evolvendo alla svelta che piaccia o no può essere più o meno divertente averci a che fare più che altro io ancora non riesco a trovarci un vero scopo perché non faccio illustrazione editoriale e quindi insomma non mi occupo di impaginati siti web tutte le situazioni nelle quali servono grandi quantità di foto senza particolare cura diciamo per per la loro qualità non so ancora quanto possono essere utili in ogni caso vale la pena tenerci un occhio perché bene o male temo che ce li ritroveremo un po' dappertutto quindi piaccia o non piaccia imparare almeno a capire come funzionano almeno a capire cosa è il caso che non ci mettiamo più a fare perché tanto in qualche modo la maggior parte delle persone le otterrà comunque con strumenti di questo tipo quando saprà accontentarsi di questi risultati che sono piuttosto scarsi ma nello stesso tempo destinati anche un po' a migliorare almeno tutte queste control net diciamo permettono di poter governare il risultato in maniera artistica e quindi cercare di ottenere esattamente quello che vogliamo grazie e alla prossima